Più autobus in città, sono arrivati questa mattina nuovi mezzi dell'ATM che saranno messi in servizio nelle linee del trasporto pubblico di Trapani. Buongiorno a tutti voi e bentrovati con la nostra prima finestra informativa dedicata alla notizia del giorno. Questo è il nostro servizio. I nuovi mezzi sono stati acquistati grazie a un finanziamento del 2017 cofinanziato dalla Regione Sicilia che vede un impegno economico di un milione di euro a carico dell'ATM e quattro a carico della Regione. Domani saranno in città i tecnici della Merchia, l'azienda che ha vinto la gara di appalto per la fornitura dei bus che provvederanno a istruire il personale dell'ATM sulle caratteristiche tecniche dei mezzi e subito dopo l'avvio delle pratiche per il collaudo. I nuovi bus potranno già essere in circolazione dal prossimo mese di aprile. Al momento sono sette, a luglio ne avremo altri due e poi mi auguro che per fine anno ne arriveranno ulteriori quattro e rimanenti 16 nel 2020. Quindi in totale nell'arco di un anno, da qua a fine 2020 avremo nuovi 25 mezzi che girano per la città. Questo devo dire grazie alla partecipazione di ATM ai finanziamenti promossi dalla Regione Sicilia. Noi investiremo circa un milione di euro, il finanziamento complessivo è di 5 milioni di euro. Quali sono le caratteristiche di queste nuove autovetture? Abbiamo comprato, o meglio, la gara è stata vinta da Mercedes, abbiamo puntato molto sulla qualità del mezzo. I mezzi sono dotati di tutta una serie di caratteristiche tecniche e innovative iniziando dal contapasseggeri, quindi a fine giornata sapremo quante persone utilizzeranno il mezzo. Abbiamo le telecamere per la sicurezza, il computer di bordo e tutta una serie di novità tecnologiche che ovviamente per noi rappresentano un passo in avanti rispetto ai mezzi che fino ad oggi stiamo utilizzando. Con la notizia del giorno ci fermiamo qui ma torniamo subito dopo la pubblicità. Vi aspetto. E' morto Enzo Tartamella, il noto giornalista trapanese, si è spento questa mattina dopo una lunga malattia. Domani alle 15.30 i funerali nella cattedrale di San Lorenzo. Il processo alla ferriata, udienza la settimana scorsa a Catania per la vicenda che ha coinvolto la nota azienda vitivinicola di Paceco. Verso la stagione estiva, presentato dal sindaco Bica e dall'assessore Fonte, il programma e degli eventi che saranno organizzati a Custonaci. Infanzia in gioco, dopo l'apertura dei centri in provincia, il progetto passa al secondo step con i percorsi formativi. Un evacuo da record con la rete di lunedì contro i rieti, l'attaccante Granata, si iscrive di diritto nel libro dei record con i suoi 163 gol nei campionati di Serie C e 189 gol nei professionisti. La condotta sa da fare. Nell'approfondimento delle 14.20 torneremo ad occuparci del guasto della tubatura fognaria che ha portato alla chiusura di un tratto della strada provinciale 21. Partiti lavori di riparazione, ma sembra sempre più necessario un intervento per risolvere una volta e per tutte il problema. Grazie a tutti. responsabile della redazione di Trapani del Giornale di Sicilia. Enzo Tartamella se n'è andato. Per anni ha combattuto contro una tremenda malattia, non arrendendosi mai e facendo fino alla fine il suo mestiere di giornalista, scrittore e conduttore televisivo dagli studi della nostra emittente, dove ha curato il programma Babele, rotocalco di approfondimento culturale, avendo tra gli ospiti molti noti personaggi, spaziando per ogni argomento, dal mondo dello spettacolo alla scienza fino ai mestieri trapanesi. Dove c'era qualcuno da intervistare o una storia da raccontare, allora c'era Enzo Tartamella, con tutti i suoi anni di mestiere alle spalle. Una grande curiosità per tutto ed un grande amore per la sua professione. Tra i decani del giornalismo trapanese è stato il responsabile di redazione di Trapani del Giornale di Sicilia, quotidiano dove ha lavorato per decenni, raccontando i fatti che hanno interessato il territorio. Iniziò la sua carriera da giornalista con Trapani Nuova. Poi, agli inizi degli anni settanta, prodò al Giornale di Sicilia, prima come corrispondente, poi, divenuto nel frattempo professionista, negli anni ottanta prese le redini della redazione di Trapani del quotidiano. È stato anche direttore di RTC e tra i suoi collaboratori in redazione ci furono Nini Ravazza e Giacomo Pilati, oggi affermati scrittori, e Mauro Rostagno. Intere generazioni di giornalisti trapanesi sono passati dalla sua supervisione in redazione, formando, con i suoi consigli e indicazioni, tanti professionisti dell'informazione, che hanno intrapreso questo mestiere con Tartamella al desk che ne passava i pezzi. Ma Enzo Tartamella era anche un uomo di cultura. Si è dedicato alla ricerca storica, economica, antropologica, scrivendo numerosi libri, a partire da quello sul Corallo, ma parlando anche di immigrazione, di morale nel Settecento nel suo tabule Nuxialis, ma anche di statistica politica con il suo trapanese alle urne. Commendatore della Repubblica, onoreficenza arrivata nel 2016 dal presidente Mattarella, era anche cultore della storia e della cultura materiale all'Università degli Studi di Palermo. Spesso partecipava ad incontri e convegni. Gli scaffani del suo studio sono pieni di premi e riconoscimenti. Un uomo di cultura, insomma, Enzo Tartamella, profondo conoscitore della storia e della sua città, delle tradizioni e di tutto ciò che orbitava nell'universo della trapanesità. Non c'era un angolo, un palazzo, una strada, che non lo portasse a condividere con i suoi giovani collaboratori la sua grande conoscenza. E soprattutto l'amore per la sua terra e per il mestiere di giornalista, che ha trasmesso a quanti hanno orbitato nella sua redazione, condividendo con loro, oltre che le regole e i segreti del mestiere, i valori, il senso del rispetto per tutti, del garbo e dell'educazione. Non a caso era uno che non alzava mai la voce. Lo ricorderemo tutti. Nella sua scrivania a raccontare ciò che meritava di essere raccontato, nei libri, come nelle colonne di un quotidiano o davanti le telecamere. Un lato professionale che poteva apparire chiuso e severo, ma che spesso lasciava delle brecce aperte per mostrare il lato familiare di Enzo. Marito affettuoso e attento, papà amorevole e presente per i suoi figli. Nonno che si emozionava nel raccontare di come incrociava lo sguardo dei nipoti. Un amore che ha continuato a trasmettere anche dopo aver scoperto di essere malato. Una notizia che volle condividere con i suoi collaboratori più stretti durante una cena a casa sua di qualche anno fa. Sono passati un po' di anni ed Enzo non si è mai arreso, non ha mai smesso di lottare contro la malattia, tanto da avere dedicato il suo ultimo libro alla morte. C'è un sogno che mi sta sognando, fino alla fine, raccontando, con una curiosità e una intelligenza sopraffina, cercando la verità e di saperne di più, veicolando cultura, di condividere conoscenze e consigli, di piantare semi nella professione giornalistica, cosa che ha fatto, fino alla fine, ascoltando e consigliando tutti i suoi giornalisti, che oggi piangono non solo la perdita di un grande collega, ma di un padre putativo, a cui devono tanto, per il mestiere imparato e la scuola di vita fatta nella sua redazione. E in queste ore stanno arrivando ovviamente numerosi messaggi di cordoglio per la morte di Enzo Tartamella. Il giornalista, in una nota a firma del segretario provinciale Vito Orlando, è stato ricordato dalla sostampa come un esempio per competenze e capacità professionali, ricordandolo con commozione e dicendosi vicini alla famiglia, in particolare ai figli Massimiliano, Roberto e Davide. Tra le altre cose, Enzo Tartamella è stato anche segretario della sostampa di Trapani. Adesso invece vi proponiamo il ricordo di Giacomo Pilati, uno dei colleghi di Enzo Tartamella, che per anni ha lavorato con lui, legato al giornalista traponese, ed ha una profonda e fraterna amicizia. Non riesco a trattenere un solo ricordo di lui. È tutto bianco, una luce abbagliante che sfuma la memoria e le sequenze sono singhiozzi che si spengono come stelle a San Lorenzo. Enzo Tartamella se n'è andato, il mio maestro, che mi ha insegnato il mestiere di scrivere, che mi ha insegnato a non avere paura della pagina bianca, che mi ha insegnato quello che so, quello che sono diventato. La redazione di Via Bastioni, avevo 17 anni, la prima volta che ho cominciato a scrivere sulle pagine del giornale di Sicilia, è stata una scuola di vita, una stagione di indimenticabili passioni. Le grandi amicizie, Ninni, Luciano, le mirabolanti imprese, lo Scarabeo, le straordinarie avventure RTC, Mauro Rostagno, i sogni, le collaborazioni con i giornali nazionali, i libri, la mia famiglia, al giornale, ho conosciuto mia moglie, pezzi di vita, un dolore immenso e il suo sorriso fino alla fine. I funerali di Enzo Tartamella, come detto in apertura del Tg, saranno celebrati domani pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di San Lorenzo, cattedrale di Trapani. Tutta la redazione, lo staff di Telesud, con in testa il presidente Massimo Marino e il direttore Wally Camareri, si stringono attorno alla famiglia di Enzo Tartamella, manifestando le più sentite condoglianze alla moglie Anna Maggio e i figli Roberto Massimiliano e Davide. Per ricordare la figura del giornalista trapanese, questa sera alle 20.30 e poi alle 23 andrà in onda uno speciale di Babele e le grandi storie, programma condotto per anni da Enzo Tartamella. Saranno riproposte due puntate, la prima con ospiti Nini Ravazza e Giacomo Pilati, dove si parla dei loro ultimi libri, la seconda invece è stata realizzata in esterna al Museo Pepoli, con ospiti l'architetto Luigi Biondo e la storica dell'arte Daniela Scandariato. Lo speciale sarà introdotto dal direttore di Telesud, Wally Camareri, che dai nostri studi traccerà un breve ricordo del collega. Cambiamo adesso argomento. Udienza la settimana scorsa a Catania per la vicenda che è coinvolta la firriato, nota azienda BTV Nicola di Paceco. Il procedimento si svolge presso la sezione speciale del Tribunale delle imprese di Catania, dove il noto ristoratore, che proprio nelle scorse settimane ha festeggiato i 60 anni dello storico locale trapanese, depositò l'anno scorso una citazione in giudizio contro la firriato, che tramite un triangolo di collegate, responsabili insolido a dire dalla parte attrice, l'inglese Direct Wines, e di una società satellite, la AVS, con sede legale nello stesso stabilimento Pacecoto, si sarebbe resa protagonista di una vicenda che oggettivamente è apparsa da subito surreale, ovvero l'immissione sul mercato inglese di un perricone sirà, con tanto di logo della cantina siciliana e nome e cognome dello chef in etichetta, oltre ad una storia inventata di sana pianta nel retro della bottiglia ad uso e consumo del mercato. 150 mila euro, più una serie di somme accessorie, fra le quali una royalty ragionevole che tenga conto a posteriori della illecita utilizzazione, questa la richiesta depositata al Tribunale catenese, che già si era pronunciato nel settembre del 2017, con la sua sezione specializzata in materia di impresa, nei confronti delle convenute, in quattro pagine di misure cautelari assai dure. Provvedimento impugnato nel quale la giudice Adriana Puglisi, nel dicembre 2017, revocò l'ordinanza precedente, ritenendo l'insussistenza del periculum in mora. In sostanza, senza entrare nel merito della vicenda oggetto del pendente giudizio di merito, si limitò a revocare le misure cautelari, ritenendo interrotta, sulla base del verbale di precedente sequestro penale, la produzione e distribuzione del vino, oggetto di contraffazione. Così, la scorsa settimana, sono state ascoltate due collaboratrici storiche dello chef che hanno sostanzialmente confermato l'assoluta sconoscenza della iniziativa da parte di Maggiore e dunque che fu svolta a sua insaputa. Adesso, il 6 maggio, verranno ascoltati i testimoni della difesa. Ma la vicenda ha tuttora uno strascico penale a seguito delle denunce del ristoratore ai carabinieri di Trapani. Su questo versante, la ferriata ha ottenuto l'archiviazione della sua legale rappresentante, Irene Di Gaetano, probabilmente entrata d'ufficio nell'inchiesta, visto che la stessa non era stata citata dallo chef nell'esposto giudiziario. Una vicenda che già allora sembrava ben lungi di essere conclusa, visto che la stessa GIP, Caterina Abrignone, rilevò che le indagini esploitate evidenziarono il pieno e diretto coinvolgimento di Ziu Dawi, responsabile della Direct Wines, distributore inglese dell'azienda Vinicola, che sarà uno dei test della prossima udienza catenese, assieme a Luca Muscente, responsabile delle vendite per l'estero della ferriato, in separato procedimento, che avrebbe rassicurato la ferriato che l'azienda fosse in ordine al coinvolgimento del Maggiore nel progetto. Linea su cui la ferriato si è tenuta nei suoi scritti difensivi. Maggiore infatti chiese di accertare presunte condotte delittuose in concorso di quattro persone, fra questi lo stesso Ziu e Salvatore Di Gaetano, all'epoca dei fatti membro del CDA e titolare del 98% delle azioni dell'azienda Pacegota. I legali dello chef confermano che le indagini dei PM sono ancora in corso. Ci fermiamo soltanto per la pubblicità, torniamo subito con una nuova edizione. Verso la stagione estiva ieri pomeriggio nel centro di urno per anziani di Custonaci si è tenuto un incontro aperto con gli operatori del settore turistico per parlare della programmazione estiva. Infanzia in gioco dopo l'apertura dei centri in provincia, il progetto passa al secondo step con i percorsi formativi. Per lo sport un evacuo da record con la rete di lunedì contro i rieti l'attaccante Granata si iscrive di diritto nel libro dei record con i suoi 163 gol nei campionati di Serie C e 189 nei professionisti. Ci spostiamo adesso a Custonaci dove ieri pomeriggio nel centro di urno per anziani si è tenuto un incontro aperto con gli operatori del settore turistico per parlare anche dell'imminente programmazione degli eventi estivi. Nel corso dell'incontro il sindaco Giuseppe Biga e l'assessore Fabrizio Fonte hanno parlato della recente esperienza alla BIT di Milano 2019 dove all'interno dello stand della regione siciliana è stata presentata la nuova brochure del territorio di Custonaci. E già si guarda gli eventi estivi in modo da programmare le iniziative e permettere agli operatori di organizzarsi per tempo. Il primo punto dell'ordine del giorno è l'esperienza della BIT per migliorarla, per anche portare qui quelle che sono state le nostre percezioni e anche i contatti che si sono avuti con qualche tour operatoro che comunque è interessato alle realtà del nostro territorio. Nello stesso tempo presentiamo un po' la stagione estiva, tutti quegli eventi che sono necessari intanto per far passare buone serate agli ospiti che arrivano e ci auguriamo qualche evento in particolare che addirittura possa attrarre di più e far sì che ci sia l'opportunità di una maggiore ospitalità nel periodo estivo. Le manifestazioni alcune sono oramai standardizzate, le abbiamo realizzate negli ultimi anni e hanno fatto successo, come la Sfincia Fest, ovviamente c'è la centralità della Festa della Madonna che per noi ha un valore religioso legata moltissimo al turismo religioso, ci sono le visite al Granario Islamico e quest'anno ci sarà la grande e straordinaria opportunità di portare tu una fisce, quindi questo momento gastronomico legato al mare, al pesce e al territorio. Quindi tante opportunità, tanti eventi ed è importante coinvolgere gli operatori del settore perché intanto loro avendo questi eventi possono realizzare dei veri e propri pacchetti turistici da vendere in occasione della circostanza, dell'evento, del prese più evidente, per esempio la programmazione nostra è annuale. E quindi questo lavoro credo che sia importante perché dobbiamo imparare sempre di più a programmare con largo anticipo perché già è il tempo in cui i turisti scelgono i territori e quindi avere l'opportunità nel momento in cui sceglie il territorio, sapere cosa si realizza durante l'estate e durante tutto l'anno è una bella iniziativa. Presente all'incontro anche la Presidente del Distretto Turistico della Sicilia Occidentale, Rosalia Dalì. Bustonace è parte integrante della West Sicily, è assolutamente inserita nel nostro progetto strategico di creazione della destinazione Sicilia Occidentale. È un territorio importante dal punto di vista paesaggistico, storico, di tradizioni, con i suoi eventi e quindi è sicuramente uno dei luoghi che noi inseriremo nella nostra promozione, nel nostro programma e anche che stiamo per portare avanti e per sviluppare. Oggi si parla, si programma per la stagione che verrà. Ecco, lei cosa si auspica? Io mi auspico innanzitutto delle presenze turistiche rilevanti. Sappiamo che il momento è difficile, sappiamo benissimo le difficoltà generate dall'assenza di Ryanair e dei suoi voli su Trapani, però noi comunque non ci fermiamo e lavoriamo per la promozione del territorio e per il marketing turistico e territoriale e in giro per l'Italia e per l'Europa. Sulle vicende dell'ex canile comunale interviene il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida. Sulla vicenda mercato del pesce il sindaco fa sapere che... C'è un errore, stiamo ripristinando. Sulla vicenda dell'ex canile comunale di Trapani, dove ieri è scattato il sequestro da parte dei vigili urbani in seguito all'intervento dei veterinari dell'Asp di una cella frigorifera non a norma contenente le carcasse di alcuni animali morti destinati all'inceneritore, è intervenuto il sindaco Giacomo Tranchida. Ho provveduto ad inviare una nota al comando di Polizia Municipale e al servizio veterinario dell'Asp scrive in una nota il primo cittadino per chiedere urgenti notizie anche al fine di adottare in via cautelativa o sostitutiva i provvedimenti del caso. Chi sbaglia paga, aggiunge Tranchida, e sarà mia cura capire se ci sono state omissioni e se ci sono precise responsabilità di chi doveva provvedere in merito. Il sindaco si sofferma anche sulla situazione del nuovo canile di Contrada Cudia annunciando che a breve potrebbe essere pubblicato il bando per la sua gestione una volta terminati i lavori di adeguamento della struttura. Una buona notizia che eviterà il trasferimento dei randaggi presso il canile di Caltanissetta. Il progetto Infanzia in Gioco passa al secondo step dopo l'apertura dei centri in provincia al via ai percorsi formativi. Il primo incontro si è svolto questa mattina nei locali del Polo Universitario dei Trapani moderato dalla giornalista Ornella Fulco. Il progetto Infanzia in Gioco promosso dalla Onlus Umanamente passa allo step successivo. Dopo l'apertura dei centri in provincia di Trapani al via il percorso di formazione per tutti gli operatori dell'infanzia. Il progetto ha l'obiettivo di raccogliere quello che è già la competenza degli insegnanti di scuola e l'infanzia, del pubblico come del privato e di collaborare, di creare un modello di processo che possa essere funzionale anche allo sviluppo delle attività, dell'iniziativa promossa dal progetto finanziata a Fondazione per il Sud. Ovviamente la scuola lavora già su questa linea perché il progetto è perfettamente centrato e coerente con il modello di istruzione, di educazione, di formazione integrata che è promosso dal processo 06 e che fa sì che gli alunni possano essere accompagnati all'interno delle scuole ma anche all'interno del territorio insieme con le famiglie, insieme con le associazioni, le attività che territorialmente possono essere promosse per la creazione, la conduzione, la costituzione di un nuovo cittadino. Presenti il sindaco di Erice Daniela Toscano e l'assessore del comune di Trapani Enzo ha bruscato i due enti, sono stati tra i primi ad aderire al progetto con l'apertura dei primi centri dove bambini e genitori possono interagire divertendosi e per la onlus umanamente è tempo di bilanci. C'è stata una bella risposta sia nei momenti in cui abbiamo inaugurato e aperto questi spazi alla città che poi successivamente hanno cominciato subito le iscrizioni. Sono spazi che tutti i giorni vengono vissuti dai bambini e dai genitori insieme ma anche dai nonni qualche volta. Sono degli spazi dove al pomeriggio, tutti i giorni della settimana è possibile incontrarsi e stare insieme, genitori e figli, per condividere esperienze educative, ludiche o semplicemente stare insieme in un luogo che è stato pensato e attrezzato proprio tenendo conto delle esigenze dei più piccoli quindi sono luoghi con degli arredi molto gradevoli per i bambini dei giochi morbidi, giochi di qualità, libri di qualità ogni spazio ha delle librerie dedicate ai più piccoli con dei libri scelti appositamente in collaborazione con l'associazione Nati per Leggere sono dei luoghi dove i bambini vengono e stanno bene Il percorso Artigiani di Pace e Attori dell'Avvenire ispirato al messaggio di Papa Francesco per la giornata mondiale per la pace la buona politica e al servizio della pace si terrà con incontri settimanali presso la sede della scuola al seminario Vescovile ogni mercoledì dalle 19 alle 20 e 30 il primo appuntamento si terrà oggi con la partecipazione di Giuseppe Savagnone filosofo e saggista che guiderà la riflessione a partire dal messaggio del Papa collogandolo al messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella introdurrà il Vescovo Monsignor Fragnelli a partire dal 2 marzo e fino al 6 aprile organizzati dall'OPEAS Italia si terranno tre incontri che parleranno del corpo umano i corsi sono rivolti a laureati in scienze motorie, studenti in scienze motorie e istruttori di fitness ed è valido come crediti scolastici a tenere gli incontri Oscar Tipa e Giuseppe Giliberto per informazioni e iscrizioni Erice Sport SRL via Francesco De Stefano 17 e adesso invece spazio alle previsioni del tempo Nel pomeriggio di oggi si registreranno nubi sparse con temperature comprese tra i 9 e i 14 gradi venti deboli provenienti dal sud-est il mare sarà poco mosso in serata il cielo sarà sereno i venti continueranno a soffiare da sud-est per domani mattina il cielo sarà sereno con venti deboli provenienti da est le temperature minime saranno attorno agli 8 gradi sui 14 le massime il mare sarà poco mosso gli venti continueranno a soffiare da est e per gli appuntamenti su Telesu dalle 20.30 alle 23 speciale Babele le grandi storie dedicato alla memoria del giornalista e scrittore Enzo Tartamella e Domenico Laudicina il quarto protagonista di Graffiti in onda questa sera alle 21.30 a mezzanotte e 30 album di voci raccolte nel 1996 da Giacomo Pilati riproposto in versione restaurata e digitalizzata laudicina dal 1944 al 1945 è stato assessore all'assistenza e beneficenza su nomina della commissione di occupazione alleata dal 1952 al 1975 consigliere comunale a Trapani per l'ADC è stato sindaco di Trapani dal 1956 al 1957 e adesso una breve pausa pubblicitaria e poi ovviamente la pagina sportiva eccoci con lo sport si disputerà domenica 17 marzo organizzata dal promoter Chinesia e dal comune di Mazzara del Vallo la terza edizione dello slalom del Satiro del Satiro scusate nella strada provinciale 50 Salemi Mazzara del Vallo il programma prevede le verifiche tecniche sportive sabato 16 marzo dalle 14.30 alle 19 nel piazzale Quinci le iscrizioni si chiuderanno l'11 di marzo per informazioni www.chinesia.it passiamo invece adesso al basket ma il basket giovanile perché questo pomeriggio alle 15.30 al Palaconad avrà luogo un match molto importante per la formazione Under 18 della Conad Trapani nel campionato nazionale DNG i ragazzi di Canella affronteranno l'Eurobasket Roma in un match che vale uno spareggio fondamentale per l'accesso alla fase successiva del torneo all'andata Granata vinsero di 5 lunghezze ed una vittoria ipotecherebbe il passaggio del torno in bocca al lupo ai ragazzini della Palacanestro Trapani adesso invece passiamo al calcio perché grazie alla rete realizzata lunedì sera contro il Rieti Felice Vacuo segna il record dei 189 gol nei professionisti con 163 realizzati nei campionati di Serie C ascoltiamo proprio Vacuo eravamo venuti qui sapendo già il risultato della Juve e Sabia quindi ci tenevamo a fare una vittoria per cercare di dare pressione ad una squadra che sta facendo secondo me un campionato statosferico non hanno mai perso e quindi era importante riuscire a centrare questa vittoria stasera per dargli un po' di pressione poi come hai detto tu la strada è ancora lunga però è normale che le partite si incominciano a contare sulle dire di una mano e quindi i punti cominciano a diventare ancora più pesanti siamo felicissimi perché sapevamo dell'importanza della gara e soprattutto delle difficoltà che potevamo incontrare su questo campo quando questa squadra è ben allenata da Capuana e quindi siamo stati secondo me bravissimi a aspettare il momento giusto per colpirli e poi per amministrare la partita diciamo che è stato un regalo dei compagni di squadra perché quando ho conquistato il calcio di rigore sono venuti tutti verso di me e mi hanno portato il pallone per farmelo calciare e diciamo è stata una bella responsabilità però l'ho colta volentieri perché sapevo che era magari il momento giusto per raggiungere finalmente questo record che inseguivo da tanto tempo e quindi è stato il momento provvizio per fare record e vittoria per una squadra come noi magari che gioca a pala a terra tutta la partita è un po' penalizzante però questo è il campionato e queste sono le partite che dobbiamo affrontare stasera dobbiamo farci i complimenti perché veramente siamo stati pazienti abbiamo aspettato il momento giusto per colpirli senza rischiare quasi mai niente tra l'altro la Cavese secondo me è una delle squadre che gioca il miglior calcio di questo girone è normale che negli uomini tra virgolette noi siamo superiori però questo lo dobbiamo dimostrare in campo domenica dopo domenica sicuramente è una partita importante visto che poi la settimana dopo ipoteticamente avremo tre punti a tavolino con il Matera e poi rigiocheremo ancora in casa con la Casertana e penso che questo sia il momento per farci sotto e per cercare di mettere quanta più pressione possibile alle squadre che ci precede la Juve Stabia e per cercare di creare qualche piccolo distacco su quelle che ci stanno dietro Catanzaro e Catane che alla storia attuale delle cose stanno facendo un grandissimo campionato penso come il nostro e che purtroppo si vedono ancora meno 7, meno 8 dalla capolista che come detto prima davvero fino a questo momento non ha sbagliato niente non ha sbagliato niente la condotta sa da rifare sono partiti i lavori per la riparazione della condotta fognaria che passa sotto la strada provinciale 21 che ha portato alla chiusura ad un tratto della via del sale e questo è il servizio del nostro Tg Approfondimento di oggi lo scavo è partito in queste ore questa volta per riparare la condotta fognaria bisogna intervenire a pochi metri dalla riserva delle saline di Trapani e Paceco il che impone cautela e la necessità di dare seguito alle richieste dell'ente gestore dell'area protetta oltre alle protezioni è stata messa una pompa per asciugare lo scavo e portare liquami al depuratore con una tubatura volante il tratto della strada provinciale 21 interessato dalla rottura è stato chiuso al traffico i mezzi vengono deviati per la zona industriale dopo la rotonda per la circonvallazione e all'altezza del mulino Maria Stella sul punto della rottura si è formata una crepa nell'asfalto che si è anche rialzato dunque ancora una rottura nella condotta fognaria che porta i liquami dal centro urbano al depuratore questa volta proprio sotto la SP21 conosciuta anche come la via del sale lo scorso gennaio analogo problema si era presentato in via Libica dopo il passaggio a livello andando verso l'autoparco comunale ma anche nel 2018 si sono verificate diverse rotture con fuoriuscita di liquami sempre dal passaggio a livello in poi il che ha portato alla chiusura della via Libica una delle più importanti strade visto che si tratta di un'arteria viaria che collega il centro urbano di Trapani con la zona industriale con le frazioni per arrivare fino a Marsala o al raccordo autostradale è per questo molto trafficata ma sotto il manto stradale della via Libica e della SP21 passa la tubatura che porta tutti i liquami di Trapani e del territorio del comune di Erice dalla stazione di sollevamento di via Marsala al depuratore consortile l'impianto si trova a lungo la strada provinciale 21 per il trattamento degli scarichi fognari il tratto di condotta in vetro resina è lungo circa due chilometri e mezzo ma ormai ha i suoi anni da qui le sempre più frequenti rotture ma per la sostituzione è richiesto un investimento di diversi milioni di euro come fatto sapere dall'assessore Nini Romano impegnato in queste ore per fronteggiare questa nuova emergenza ma nell'emore di riuscire a trovare la soluzione tecnica migliore perché le soluzioni tecniche ci sono ma hanno dei costi non indifferenti di conseguenza bisogna capire se ci sarà la possibilità di farlo con il miglior risultato possibile e con i costi migliori diciamo per l'amministrazione allora la cosa ideale sarebbe la sostituzione totale delle condotte però parliamo di svariate milioni di euro per cui si sta avverutando e si era valutato anche quando c'è stata l'ultima rottura come ha detto proprio lei vicino al passaggio a livello si sta valutando di fare dei sistemi alternativi che esistono aspettiamo delle quotazioni in modo tale da vedere come poter fare per risolvere definitivamente il problema è sicuro comunque che non è una cosa che si può fare dall'oggi al domani nuova edizione del nostro Tg per parlare della morte del noto giornalista e scrittore trapanese Enzo Tartamella che tra le altre cose in questi anni ha condotto la nostra trasmissione Babele i funerali saranno celebrati domani alle 15.30 in cattedrale nel servizio che vi proponiamo il ricordo tracciato dal nostro collega Mario Torrente che ha lavorato con Tartamella negli anni in cui era responsabile della redazione di Trapani del giornale di Sicilia Enzo Tartamella se n'è andato per anni ha combattuto contro una tremenda malattia non arrendendosi mai e facendo fino alla fine il suo mestiere di giornalista scrittore e conduttore televisivo dagli studi della nostra emittente dove ha curato il programma Babele rotocalco di approfondimento culturale avendo tra gli ospiti molti noti personaggi spaziando per ogni argomento dal mondo dello spettacolo alla scienza fino ai mestieri trapanesi dove c'era qualcuno da intervistare o una storia da raccontare allora c'era Enzo Tartamella con tutti i suoi anni di mestiere alle spalle una grande curiosità per tutto ed un grande amore per la sua professione tra i decani del giornalismo trapanese è stato il responsabile di redazione di Trapani del giornale di Sicilia quotidiano dove ha lavorato per decenni raccontando i fatti che hanno interessato il territorio iniziò la sua carriera da giornalista con Trapani Nuova poi agli inizi degli anni 70 prodò al giornale di Sicilia prima come corrispondente poi divenuto nel frattempo professionista negli anni 80 prese le redini della redazione di Trapani del quotidiano è stato anche direttore di RTC e tra i suoi collaboratori in redazione ci furono Nini Ravazza e Giacomo Pilati oggi affermati scrittori e Mauro Rostagno intere generazioni di giornalisti trapanesi sono passati dalla sua supervisione in redazione formando con i suoi consigli e indicazioni tanti professionisti dell'informazione che hanno intrapreso questo mestiere con Tartamella al desk che ne passava i pezzi ma Enzo Tartamella era anche un uomo di cultura si è dedicato alla ricerca storica economica antropologica scrivendo numerosi libri a partire da quello sul corallo ma parlando anche di immigrazione di morale nel Settecento nel suo tabule Nuxialis ma anche di statistica politica con il suo trapanese alle urne commendatore della Repubblica onoreficenza arrivata nel 2016 dal presidente Mattarella era anche cultore della storia della cultura materiale all'Università degli Studi di Palermo spesso partecipava ad incontri e convegni gli scaffali del suo studio sono pieni di premi e riconoscimenti un uomo di cultura insomma Enzo Tartamella profondo conoscitore della storia della sua città delle tradizioni e di tutto ciò che orbitava nell'universo della trapanesità non c'era un angolo un palazzo una strada che non lo portasse a condividere con i suoi giovani collaboratori la sua grande conoscenza e soprattutto l'amore per la sua terra e per il mestiere di giornalista che ha trasmesso a quanti hanno orbitato nella sua redazione condividendo con loro oltre che le regole e i segreti del mestiere i valori il senso del rispetto per tutti del garbo e dell'educazione non a caso era uno che non alzava mai la voce lo ricorderemo tutti nella sua scrivania a raccontare ciò che meritava di essere raccontato nei libri come nelle colonne di un quotidiano o davanti le telecamere un lato professionale che poteva apparire chiuso e severo ma che spesso lasciava delle brecce aperte per mostrare il lato familiare di Enzo marito affettuoso e attento papà amorevole presente per i suoi figli nonno che si emozionava nel raccontare di come incrociava lo sguardo dei nipoti un amore che ha continuato a trasmettere anche dopo aver scoperto di essere malato una notizia che volle condividere con i suoi collaboratori più stretti durante una cena a casa sua di qualche anno fa sono passati un po' di anni ed Enzo non si è mai arreso non ha mai smesso di lottare contro la malattia tanto da avere dedicato il suo ultimo libro alla morte c'è un sogno che mi sta sognando fino alla fine raccontando con una curiosità e una intelligenza sopraffina cercando la verità e di saperne di più veicolando cultura di condividere conoscenze e consigli di piantare semi nella professione giornalistica cosa che ha fatto fino alla fine ascoltando e consigliando tutti i suoi giornalisti che oggi piangono non solo la perdita di un grande collega ma di un padre reputativo a cui devono tanto per il mestiere imparato e la scuola di vita fatta nella sua redazione e i funerali di Enzo Tartamella come detto in apertura del Tg saranno celebrati domani pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di San Lorenzo alla cattedrale di Trapani tutta la redazione e lo staff di Telesud con in testa il presidente Massimo Marino e il direttore Wolli Cammareri si stringono attorno alla famiglia di Enzo manifestando le più sentite condoglianze la moglie Anna Maggia e i figli Roberto Massimiliano e Davide e per ricordare la figura del giornalista trapanese questa sera alle 20.30 e poi alle 23 andrà in onda uno speciale di Babele programma condotto per anni da Enzo Tartamella saranno riproposte due puntate la prima con ospiti Nini Ravazza e Giacomo Pilati dove parlano dei loro libri la seconda invece è stata realizzata in esterna al Museo Pepoli con ospiti l'architetto Luigi Biondo e la storica dell'arte Daniela Scandariato lo speciale sarà introdotto dal direttore di Telesud Vuoli Cammareri che dai nostri studi traccerà un breve ricordo del collega cambiamo argomento arrivati questa mattina all'autoparco i primi sette autobus di una flotta di 25 nuovi mezzi che andranno a rinnovare il parco dei mezzi per il trasporto urbano i nuovi mezzi sono stati acquistati grazie a un finanziamento del 2017 cofinanziato dalla Regione Sicilia che vede un impegno economico di un milione di euro a carico dell'ATM e quattro a carico della Regione domani saranno in città i tecnici della Mercedes l'azienda che ha vinto la gara di appalto per la fornitura dei bus che provvederanno a istruire il personale dell'ATM sulle caratteristiche tecniche dei mezzi e subito dopo l'avvio delle pratiche per il collaudo i nuovi bus potranno già essere in circolazione dal prossimo mese di aprile al momento sono sette a luglio ne avremo altri due e poi mi auguro che per fine anno ne arriveranno ulteriori quattro e rimanenti 16 nel 2020 quindi in totale nell'arco di un anno da qua a fine 2020 avremo nuovi 25 mezzi che girano per la città questo devo dire grazie alla partecipazione di ATM ai finanziamenti promossi dalla Regione Sicilia e noi investiremo circa un milione di euro il finanziamento complessivo è di 5 milioni di euro quali sono le caratteristiche proprio di queste nuove autovetture abbiamo comprato o meglio la gara è stata vinta da Mercedes abbiamo puntato molto sulla qualità del mezzo i mezzi sono dotati di tutta una serie di caratteristiche tecniche innovative iniziando dal contapasseggeri quindi a fine giornata sapremo quanti quante persone utilizzeranno il mezzo abbiamo le telecamere per la sicurezza un computer di bordo e tutta una serie di novità tecnologiche che ovviamente per noi rappresentano un passo in avanti rispetto ai mezzi che fino ad oggi stiamo utilizzando